Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio della monografia dedicata alla famiglia Von Erich. Io sono Stefano, una delle voci della Tovella del Ring, e sono qui per parlarvi di un altro pezzettino della carriera di questa grande famiglia e che oggi arriveremo anche in un punto abbastanza particolare, significativo, cioè il debutto in sostanza di Carrie Von Erich, perché sì, perché c'è da parlare anche di uno dei personaggi che probabilmente conosciamo o conoscete di più, dato i suoi trascorsi anche a inizio anni 90 nella World Wrestling Federation, quindi sicuramente avremo di che parlare, di cose che conoscete anche molto bene. Fino adesso abbiamo fatto diversi episodi, ne abbiamo già fatti quattro in cui siamo andati a vedere bene la carriera di Fritz Von Erich, ora siamo entrati, ci siamo addentrati dentro a quello che è il discorso familiare, e abbiamo ovviamente raccontato sia di Kevin che di David Von Erich, due ragazzi molto bravi che sostanzialmente si ritrovano sul ring grazie anche al padre e al fatto che il padre all'interno dello Sportatorium in Texas riesce a dare diversi show di wrestling e comincia ad avere una continuità, non indifferente anche perché ci sono diverse emittenti televisive che stanno cercando altro wrestling da inserire all'interno dei propri palinsesti e ovviamente ci si infila dentro anche l'NWA nel territorio del Texas, quelle che saranno diciamo le prime prove per tirare su una WCCW molto molto interessante, la World Class Championship Wrestling, di cui parleremo diffusamente in un altro contenuto. Bene, sostanzialmente quindi i due ragazzi si trovano a lottare moltissimo nel territorio familiare, dove effettivamente poi essendo un territorio delle NWA troviamo anche i nomi di spicco come Harley Race, come Bruiser Brody, tantissime altre persone che stavano facendo molto bene in tanti territori delle NWA, quindi è un porto dove i ragazzi possono anche fare esperienze importanti. Per esempio David farà anche un match con un Randy Savage alle prime armi, ma comunque anche lui desideroso di correre a destra e a manca per trovare nei posti giusti i match giusti per fare esperienza per potersi addentrare nel mondo del pro wrestling. Insieme i due formeranno il primo nucleo dei Von Erich, lottando molte volte in coppia e riusciranno anche a trovare il primo successo insieme nel 1977, 78 scusate, dove ovviamente riusciranno a vincere i titoli di coppia insieme, quindi David e Kevin saranno ovviamente impegnati parecchie volte a fare squadra insieme. Però ci sono molte possibilità anche per andare in singolo e quindi i due si trovano anche a lottare in modo spaiato. Chiaro che se quando noi andiamo a pensare ai due, come due che possono fare qualcosa insieme, non dobbiamo dimenticare che saranno l'inizio di quella che potrebbe essere definita proprio il nucleo di una delle stable familiari più importanti, che si staglierà di lì a poco. Ovviamente ci sono tante persone già di una certa esperienza all'interno del giro delle NWA che possono dar loro una mano, e quindi loro cominciano a farsi veramente le ossa. C'è solo un piccolo problema, un piccolo problema che all'epoca non si era tanto notato internamente al discorso delle NWA, ma che poi a consuntivo, alla fine di tutto, anche ascoltando quelle che sono le testimonianze di altri lottatori che facevano parte di questi circuiti, beh, il padre non è tanto incline a mandare i propri figli in altri territori NWA, non solo perché non vuole mandarli a lottare dove possono magari farsi male o avere qualche difficoltà in più, ma perché stanno diventando tutti e due dei grandi idoli delle folle, essendo giovani, belli, essendo pronti per lottare in qualsiasi momento contro chiunque, face naturali sotto tanti punti di vista, ma anche perché ovviamente il padre sapeva che essendo bravi avrebbero potuto prendere altre strade, quindi non fermarsi direttamente lì. Lui stesso aveva avuto una carriera lontana dal Texas, non voleva fare questa cosa anche con i propri figli, per questo li tiene anche un po' alle ristrettezze economiche, non tanto perché lui vuole dare soldi a loro per chissà quale ragione, c'è un motivo un po' evil se vogliamo, c'è il fatto che lui fosse sicuro, volesse essere sicuro di poter intervenire di proprio pugno e quindi di mantenere i figli un po' sotto la scala gerarchica, cioè se tu sei completamente indipendente e non hai bisogno mai di soldi da parte di tuo padre, non hai bisogno almeno di essergli riconoscente per chissà che cosa, mentre invece lui era convinto che mantenendoli un pochino nelle ristrettezze economiche facendo in modo che loro per una necessità, un'automobile che si rompe, va giustata, come la pago l'automobile, il papà gli diceva te la pago io e tutte queste cose portavano ovviamente un po' di problemi, non tanto per David, il quale si era fatto un po' di soldi, un bel gruzzolo vendendo cavalli, quanto più per Kevin che comunque insomma impacciato per tante cose, anche se bravo sul ring, si trovava sempre a non voler nemmeno a cercare una fidanzata, qualcuna con cui poter creare una vita perché era sempre un po' in difficoltà economica, ma poi il padre spinge e quindi lui si sente abbastanza sicuro, ovviamente questo comporta un tenere sempre sotto scacco le persone e non farle progredire, non farle uscire, ma mentre loro stanno lavorando già i loro primi match, stanno già lavorando in coppia, c'è un altro Von Erich che sta per arrivare e questo Von Erich è Kerry Von Erich che nasce nel febbraio del 1960 e inizia a trovare strada all'interno del mondo del pro wrestling a soli 17 anni nel 1977, dove arriva e ovviamente si va a inserire in quelle dinamiche di inizio card solite, classiche, dove ci si trova ovviamente quando si porta all'inizio della propria carriera il proprio corpo a imparare questo mestiere. In realtà nei primi tre anni della sua carriera farà ben poco, 1977, 78 e 79 fatichiamo a superare i 100 match in tre anni, questo perché ovviamente è un po' l'età, 17 anni non puoi rischiartela più di tanto, è un po' il discorso sportivo, la carriera scolastica, perché sì, probabilmente non tutti sanno, ma il buon Kerry Von Erich, in realtà Kerry Atkinson, Kerry Gary Atkinson, era un bravissimo atleta a livello scolastico, ma non un atleta normale, un atleta molto capace. Pensate che il suo nome lo potete trovare ancora oggi nei registri dei record scolastici del Texas, è al terzo posto, ma alla sua epoca, nel 1978-79, era riuscito ad arrivare al primo posto di una disciplina molto complicata, cioè il lancio del disco. Erano anni particolari dove la lotta al doping non era ancora così importante, quindi in qualche modo si riusciva ad avere qualche aiutino extra, tanto che il fisico di Kerry Von Erich onestamente è impossibile immaginarlo come un fisico pulito. Lui era però talmente bravo che viene addirittura selezionato per far parte dell'Olimpiade del 1980 a Mosca e quindi si allena e si prepara per andare a fare una competizione sportiva di grandissimo livello. Caspita, le Olimpiadi, il sogno di tutti gli sportivi, e lui era pronto per andare. Era stato selezionato, salvo poi sentiersi sbattere la porta in faccia a livello globale, perché gli Stati Uniti decidono di non andare alle Olimpiadi del 1980, di fare proprio un'opera di boicottaggio in quella che di fatto era la nazione nemica per eccellenza dell'Unione Sovietica, la quale era in guerra fredda con gli Stati Uniti e quindi non si voleva mandare i propri atleti lì a livello olimpico. Quattro anni dopo sarà ovviamente il contrario, con le Olimpiadi di Los Angeles saranno i russi dell'Unione Sovietica che non manderà i propri atleti verso gli Stati Uniti. In questo senso quindi Kerry Von Erich diceva a sto punto non ho avuto la possibilità di portare avanti il mio sogno olimpico, potrò fare sicuramente qualcosa nel mondo del wrestling insieme alla mia famiglia. La porta è aperta, aveva già fatto qualcosa nei primi tre anni e quindi parte dal 1980 a diventare veramente importante. E mentre i suoi fratelli avevano già raggiunto un buon risultato in coppia e in singolo, vincendo alcuni titoli sia in team che ovviamente da soli, Kerry Von Erich aveva trovato un piccolo spazio insieme a Bruiser Brody. Grande amico della famiglia Von Erich, avrà un ruolo anche nel prossimo episodio in cui andremo a raccontare una cosa molto brutta che purtroppo accade alla famiglia e di base sarà in coppia con lui dove imparerà anche qualcosina. Il problema purtroppo è che le doti dimostrate come atleta anche a livello olimpico non sono le stesse nel mondo del wrestling dove ci vuole quel qualcosina in più. E arrivati al tre che dovrebbe essere il numero perfetto, beh in realtà è solo il secondo David Von Erich che sembra davvero avere quell'X Factor in più, quel qualcosa in più che possa portare effettivamente lustro alla famiglia Von Erich e forse quel titolo NWA che era stato sognato in qualche modo da Fritz Von Erich, che era stato ovviamente promesso da tutti i figli al padre presto tardi nel loro percorso nella propria carriera di lottatori professionisti, beh quel titolo sembra avere una direzione abbastanza chiara. Sarà David Von Erich quello designato da tutta l'NWA per prendersi effettivamente questo alloro importantissimo, il 10 pound of gold che noi conosciamo tutti come il titolo NWA e ovviamente è lì che andremo a parare nella prossima settimana, la prossima puntata dedicata alla famiglia Von Erich. Per oggi è tutto, vi ringrazio per aver seguito, vi ringrazio per aver portato il vostro supporto anche questa volta, ci risentiamo fra sette giorni con una nuova parte, ovviamente abbiamo scavallato la metà delle puntate che faremo intorno ai Von Erich, credo chiuderemo con la puntata 9, forse con la puntata 10, ma comunque lì andiamo a parare. Abbiamo tante altre cose da raccontare, abbiamo tante altre sfumature che tante volte vengono dimenticate all'interno del ricordo di questa famiglia, chiaramente cercheremo di tirare fuori sempre il meglio, sempre le cose più positive possibili nonostante le grandi tragedie che abbiano accompagnato questa famiglia importantissima nel mondo del wrestling. Grazie di cuore per aver seguito, io sono Stefano, una delle voci del Lato Vero del Ring, ovviamente vi do appuntamento tra sette giorni con questo, con questa monografia ancora dedicata alla famiglia Von Erich, poi ovviamente ci sono tutti gli altri, tutte le altre cose che facciamo con il Lato Vero del Ring, tutti gli altri video, gli approfondimenti, è anche una settimana importante, quindi mi raccomando continuate a seguirci, io non posso far altro che ringraziarvi e darvi appuntamento, alla prossima.